Non sappiamo nulla, cioè loro non comunicano. Ci sono delle voci però non sono fondate. Siamo fino al 31 di dicembre, scusi, e appunto restiamo i pesimpli, poi non si saprà il nostro futuro. Si avvicinano le feste, non è piacevole. Non è piacevole perché tutti quanti abbiamo una famiglia alle spalle, dobbiamo andare avanti, dobbiamo tirare la cinghia a fine mese e non sappiamo appunto, cioè la Conad non esprime nessun parere favorevole. Il gruppo Ocean a fine anno lascerà l'Italia, i punti vendita in provincia di Vicenza, tra ipermercati, medi e piccoli, punti vendita sono 8 e vi lavorano circa 300 persone. Finora, nel corso di una lunga trattativa a livello nazionale, la Conad Supermercati ha comunicato che rileverà tutti i punti vendita vicentini, esclusi l'ipermercato di Via Cattane e il supermercato di Povolaro. 190 i posti di lavoro al momento, senza un futuro. Ad oggi purtroppo non abbiamo nessuna certezza su chi vorrebbe comprare questi due punti vendita. Stiamo aspettando delle risposte da parte dell'azienda, stiamo aspettando che qualcuno si faccia avanti per l'acquisizione, ma ad oggi purtroppo non abbiamo nessune risposte. Anche il futuro dei dipendenti dei punti vendita passati alla Conad è comunque tutto da definire, avvertono i sindacati, forse la nuova proprietà non ama i grandi numeri di personale in busta paga e punta al cosiddetto spezzatino occupazionale. Prende tempo e i lavoratori per questa strategia si preoccupano. Perché è frutto di una grande operazione finanziaria che ha acquisito le merci, le strutture e però non si sta comportando in maniera corretta nei confronti di tutti i dipendenti. Vogliamo risposte! Grazie! 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 Grazie!